buonasera volevo fare un breve racconto dell'operazione che venerdì sono riuscito a chiudere in profitto sullo strumento gold preciso che sono in roi booster da metà luglio anche se ho iniziato a fare le prime operazioni dai primi d'agosto e inizialmente sono andato abbastanza bene poi però ho voluto provare a vedere di fare qualcosa per conto mio ad esempio non chiudendo l'operazione entro il 19 come invece riportavano i fogli le indicazioni o se no ad aggiungere l'altro capitale per sperare l'operazione poi cambiasse rotta e invece bene o male sono sempre andate non tanto bene e quindi dalla settimana scorsa insomma da quando è successo questa cosa io ero già dentro nell'operazione di questo del gold da un paio di settimane la prima settimana si era mosso sia no la settimana scorsa invece dai primi della settimana scorsa ha iniziato a muoversi di più specialmente all'apertura di wall street e poi venerdì è successo che al momento che io io sono uscito dopo pranzo sono rientrato prima delle quattro e ho visto uno stupore che era aveva fatto un bel candelone al rialzo e batteva 1779 praticamente non sapevo cosa fare fosse stato per me sarei rimasto però poi ho pensato di andare subito a vedere le quelle l'indicazione dava nei fogli gold miner che era di proprio 1779 che lo stavo attendo in questo modo ecco quello praticamente stato il massimo della giornata da lì poi è venuto giù comunque io ho chiuso le operazioni li ho fatti massimo del guadagno quindi quello che posso consigliare a chi si appresta a chi si scrive che acquista questo è per l'advise di roe booster di attenersi alle indicazioni che vengono fornite giornalmente da dai fogli isi e da fogli gold miner grazie e buona serata a tutti crederci